Fin da bambino ho sempre avuto un debole per i film horror estivi, questo nob è arrivato in un momento in cui iniziavo a pensare che non ci fosse più speranza. Pronti per la recensione? Allora partiamo! Come dicevo il mercato degli horror estivi è per me fonte di immensa tristezza da anni, ma vedendo il trailer di questo nob qualcosa mi è scattato dentro. Come qualcosa dovrebbe essere scattato in voi nel mettermi un bel mi piace a questo video e di iscrivervi al canale. Solo così, col vostro supporto, posso crescere ancora. Una crescita che man mano che si avvicinava alla visione di Nob quindi mi faceva pensare a un film di tutto rispetto che avrebbe ribaltato le ultime decadi di film horror estivi, Moshi e poco appeal. Eh sì, sappiatelo, io sono uno della generazione di zio tibia cresciuto tra il fascino di voler provare ad essere spaventato da questi film e la sonora certezza di non dormirci poi la notte incappando in incubi più paurosi dei film stessi. Comunque questo mercato direi che dopo It per me è lentamente migrato verso gli horror pacco che sapevano sì e no fare solo jumpscare se andava bene. Insomma insoddisfazione totale. Però sono qui a parlarvi di Nob quindi qualcosa sarà capitato se mi preme dirvela. Ebbene è giunto il momento. Cos'ha questo Nob di differente? Intanto alla regia Jordan Peele che ho apprezzato in Get Out e Us quindi ero preparata ad un horror sui generi e spiazzante che non voleva darti in pasto la solita storia ma rielaborarla in maniera moderna e donando delle sfumature particolari con tempi horror differenti da quelli a cui lo spettatore è abituato. Ritroviamo poi Daniel Kaluya già protagonista di Get Out che anche qui con la sua recitazione a tratti piatta e monofacciale volutamente si intende quindi non alla Bruce Willis degli ultimi Razzie Awards riesce a dare spessore ad un personaggio introverso e chiuso nel suo mondo di allevatore e addestratore di cavalli. Si vede che predilige stare a contatto con gli animali che capisce e non con gli esseri umani che trova indecifrabili. Poi arriva Keke Palmer che è in persona la sorella del protagonista che per contrapasso è il suo opposto estroversa fino all'ogoroico disinvolta e totalmente assente nel capire gli animali ma puntuale nel comprendere come relazionarsi con gli uomini. Da notare che ha anche problemi a capire quando fermarsi quindi bisogna dire ottimo personaggio praticamente tra lei e il fratello sono gli unici due che hanno un'evoluzione. Abbiamo poi Brandon Perea che pare proprio un commesso alla Chuck o almeno a me l'ha ricordato. Poi c'è Steve Yeun che è bravo ma allo stesso tempo non ha spazio e il suo personaggio è letteralmente bloccato nel passato. Infine Michael Wincott che è in persona un super regista che vuole la sua balena bianca, vuole la caccia, la ricerca della perfezione. Anche lì però il suo personaggio serve solo all'allegoria che Jordan Peele vuole rappresentare. Ma è il momento di passare alla trama vera e propria. Un horror con gli alieni in una terra brulla e arida della California che però porta il nome di Agua Dulce. Il setup della storia è veramente lungo ed intriso di citazioni e ambientazioni anni 80 e 90 della cultura USA. Ma non quella famosa all'estero, proprio quella più interna che da noi è arrivata solo sbiadita. Una rappresentazione che ci porta via almeno metà film e che ricalca per modi e tempi un film western d'altri tempi. La regia non indugia troppo ma si prende tanto tempo. Assistita da una fotografia spettacolare, è lo stesso Dean Stellar, e da una musica che crea parecchia ansia. Ci sono due o tre jumpscare in questa zona che sono veramente ben preparati e ti fanno sudare. L'inserimento del tecnico alla Chuck è poi interessante, però l'ho detto che è un film di alieni differente. Quindi dopo una prima parte, misto western Chuck, arriva la seconda parte. I dettagli li lascio all'area spoiler. Vi basti solo sapere che diventa letteralmente un predator misto ad Evangelion. Non pensavo fosse possibile, ma sono rimasto veramente colpito. Una seconda parte che mette il turbo e che vola, recuperando anche il tempo perso della prima parte, non facendo più pesare le due ore e dieci minuti. Questo nope è un film che non mi aspettavo proprio, un film che promuovo e consiglio, che mette assieme, forse non proprio in maniera perfetta, generi totalmente opposti, e che non pensavo potessero andare assieme. Dal western alla serie Chuck, passando per un predator pompato alla Evangelion. Insomma, un film che mi ha pienamente soddisfatto, ma che non è, a mio avviso, un vero horror. Fatemi spiegare. Lo è, ma non lo è allo stesso tempo. Fa paura, mette angoscia e tensione, fa anche schifo. Ma allo stesso tempo è più un esercizio di stile, una satira, nemmeno troppo velata, alla cultura USA e a Hollywood. Quasi una raffigurazione dello spettacolo becero e puerile che ti rapisce e fagocita appena lo guardi, perché ti ammaglia, ti attrae. Ora, se non volete spoiler, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate con il vostro pensiero sul film, divulgate questo video in ogni dove e, infine, c'è sempre la possibilità di farmi una donazione. In effetti vi sto chiedendo un bel po' di cose, devo allargirvi più a bracci virtuali. Ma io lo so che voi bramate per lo spoiler, bramate per capire quello che non ho capito e non capire quello che ho capito. Siete quindi in attesa dell'aera spoiler col botto e inizio subito con una incredibile considerazione. Mamma mia quanto è bello Leviatano! Ricorda assolutamente l'angelo Sahakiel di Evangelion. Infatti lo stesso regista ha detto di essersi ispirato a quell'anime senza tempo. Un mostro che inquieta su tutti i livelli, ma che allo stesso tempo non si vede praticamente mai per tutto il film. Solo alla fine ci regala il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Però qualcosa non torna su questo Leviatano. La prima è la sua capacità di creare la nuvola immobile in cui si nasconde. Ma mi ha lasciato un po' interdetto. Per chi non lo sapesse un Leviatano è un animale mitologico e gigantesco dei mari che però è passato anche allo spazio in serie come Farscape per esempio. Il regista pazzo che filma mentre viene divorato per lasciare ai posteri l'opera è qualcosa di assurdo, tragico e divertente al tempo stesso. Le trovate come lo scarico dei rifiuti sulla loro casa è geniale e ti fanno capire che Nopo non si prende troppo sul serio. La caccia tra loro e il Leviatano poi è veramente ben congegnata e piena di spunti comici come il giornalista in moto elettrica. Infine la scimmia che svalvola e sbrana tutti tranne il bambino beh anche questa è un'allegoria del mondo dello spettacolo. Non è un fatto realmente accaduto o meglio è accaduto una donna ha perso la faccia per quello ma in un momento meno diciamo teatrale. E comunque in questo film poche armi per essere negli USA. Direi che siamo giunti alla fine visto che personalmente non voglio aggiungere altro su questo Nopo. Dovete godervelo se superate ovviamente la prima ora. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!